la mia mammina è molto speciale e per me si dà tanto da fare alla mattina si alza dal letto e mi sveglia con un bacetto poi va in cucina e la colazione mi prepara alla perfezione in un baleno si va a truccare perché al lavoro non può tardare tutto il giorno io la penso e quando torna sono contento sulla porta di casa le corro incontro e per un forte abbraccio sono pronto ti voglio bene mamma tu lo sai la cosa più preziosa per me sempre sarai